bella regà bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi voglio raccontare un'altra belinata raga rockstar si continua a prendere più in culo nuovo aggiornamento della polizia sto gran cazzo raga semplicemente usciranno quattro missioni in più neanche colpi o cose grosse quattro missioni cagate in più della parte seconda del dlc chop 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 come cazzo si chiamano io penso che arrivati a questo punto non so più che dire con la scusa che stanno facendo gta 6 stanno sistemando gta 6 gta 5 è morto raga perché veramente ci danno l'accontentino continuiamo a spendere perché c'è gente che spende soldi per le sharkar soldi per account soldi per le aggiunte soldi 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 ma alla fine di concreto non si vede assolutamente nulla a valer mio raga rockstar si meriterebbe semplicemente una cosa che tutta la community di gta 5 si bloccasse e non giocasse più a quel gioco vi faccio vedere io che anche se stanno facendo gta 6 raga quel cazzo di palazzo in costruzione da 10 anni diventa veramente una cosa assolutamente paurosa perché si metterebbe se va bene esiste già se va bene è già fatto e non lo fanno neanche non lo possono non fanno niente quindi raga niente che dire volevo semplicemente avvisarvi che comunque il 7 arriverà questo nuovo aggiornamento e niente raga io spero che questo video vi è stato d'aiuto se la pensate come lasciate un like commentate fate un po quello che volete e alla prossima bella raga spada